Una sala gremita con un pubblico variegato composto da autorità regionali, sindaci, consiglieri ma anche tanti volontari, operatori, familiari per l'inaugurazione del punto di ascolto che la Diapsi, l'Associazione Difesa degli Amalati Psichici, ha voluto per gli utenti e le famiglie della Bassavalle. Venerdì 18 gennaio al Palais des Services di Ponce-Martin è andata in scena la solidarietà con la presentazione di questo nuovo servizio che offrirà supporto psicologico, ascolto e informazioni sui servizi a favore delle famiglie e degli ammalati presenti sul territorio. Il punto di ascolto di Diapsi è un'idea con radici lontane che si è concretizzato al termine di un percorso portato avanti da un gruppo di familiari. Nel 2008 abbiamo fatto una ricognizione dei bisogni del distretto 4 ed effettivamente in alcuni incontri pubblici era stato messo in evidenza sia da persone con problemi psichiatrici che dai loro familiari che le famiglie che vivevano questi problemi vivevano in una condizione di solitudine in quanto qui non c'era nessun servizio che potesse sostenerli né tantomeno un'associazione di volontariato che invece peraltro è attiva ad Aosta e della Diapsi. Per cui nel 2008 abbiamo attivato un progetto cambiamenti in cui da un lato abbiamo sensibilizzato sulla problematica del paziente psichiatrico, dall'altra volevamo offrire un sostegno ai familiari. Hanno risposto positivamente 16 persone, cioè 11 nuclei familiari che hanno lavorato insieme confrontandosi sui loro problemi e hanno costituito un gruppo permanente. A rendere possibile l'apertura, oltre alla disponibilità dei familiari, anche il premio istituito dal Consiglio regionale che ha elargito un finanziamento di 5.000 euro. Il Presidente del Consiglio regionale, durante la cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato il riconoscimento del valore del volontariato che assume una funzione di complementarietà ai servizi che offrono le istituzioni pubbliche. Noi abbiamo già un punto di ascolto ad Aosta ed era nostro obiettivo aprire un punto di ascolto in bassa valle, però non potevamo raggiungerlo finché non avremmo avuto delle persone disponibili sul territorio. Dopo che abbiamo partecipato a Progetto Cambiamenti, abbiamo fatto un corso per i familiari, questi familiari ci hanno dato la loro adesione. Ed eccoci oggi a questo traguardo molto ambito che speriamo che abbia successo sul territorio, anche perché riteniamo che ci sia proprio bisogno, visto e considerato, tutte le famiglie che hanno un ammalato in casa che aderisce ai servizi del territorio. Al taglio del nastro il presidente della regione e l'assessore alla sanità hanno voluto testimoniare la vicinanza della regione nei confronti di queste problematiche lunghe e difficili da affrontare e ribadire la scelta dell'amministrazione di non tagliare dal bilancio regionale le iniziative e i servizi che si occupano di sociale e che hanno ripercussioni sulla vita delle persone. Il punto di ascolto sarà aperto per tre ore alla settimana, tutti i giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 presso il Palais des Services in via Barenne a Ponce-Martin. L'esigenza principale è quella di avere un punto in cui non sentirsi soli, in cui ci si sente capiti dalle persone che vivono lo stesso problema. Però una cosa fondamentale, anche il motivo per il quale questa sera ci sono le autorità, c'è anche il dottor Colotto, è che non deve essere un punto di ascolto isolato, ma è all'interno di una rete dove ci sono gli assistenti sociali, ci sono i medici e di conseguenza è un po' una modalità per aiutare il familiare da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista prettamente umano di ascolto e di condivisione con altri che condividono la stessa problematica, però poi anche in collegamento con i professionisti, con le persone che hanno ovviamente delle competenze specifiche nel settore e creare quella rete necessaria è fondamentale.